Ci troviamo presso il presso scolastico di Dragonare, un presso scolastico bellissimo in un'area verde molto romantica dove tra breve avremo anche un'altra grossa soddisfazione, quello di completare l'iter per la recinzione che così come detto ieri sera anche comunale sarà realizzato entro la primavera prossima così metteremo veramente in sicurezza questa bellissima struttura. È un percorso abbastanza lungo, sono provati varie vie, sono state anche delle promesse purtroppo poi non mantenute da parte di sponsor e quant'altri e alla prima occasione abbiamo messo da parte le somme giuste unitamente alle coperture che verrà fatte in contemporanea recinzione per mettere, ripeto, in sicurezza l'edificio stesso. Ciao! 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 Ciao!